Allora, mattina tu vai lì alle? Alle 9, alle 9 apre l'ufficio, io alle 9 sono in ufficio. Alle 9 cominciano a venire, bisogna che vai prima. Le magliette ci sono, bianche, nere, tutte le taglie, i prezzi me li ricordo, sono preparatissimo. Dari bambini le magliette, le magliette ci sono anche bambini. Non c'è il taglio, non c'è il taglio, non c'è il taglio, c'è il taglio, c'è il taglio, c'è il taglio. C'è tutto, c'è tutto. Yo Luca, è tutto a posto. Ciao Dane. Do you get your season ticket yet? Saldette? Abbonamento? No, ancora no. Hey, you gotta get your season ticket, man. Ok, ok, Dane, stai calmo, ok, ok. No, 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 come on, Dane, the season ticket start on Monday. On Monday? Ok. Season tickets go on sale on Monday, go get them.